Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Barbara Lombardo, moglie di Totò Schillaci, ha raccontato con grande emozione gli ultimi mesi di vita del marito. Scomparso il 18 settembre dopo una battaglia durata tre anni e mezzo contro un tumore al colon, Schillaci, icona del calcio italiano, aveva affrontato due interventi, seguiti da un periodo di apparente ripresa. La coppia aveva cercato di riprendere in mano la propria vita, partecipando anche a Pechino Express, ma al ritorno dalle riprese, nuovi accertamenti hanno rivelato che le metastasi avevano invaso il corpo, coinvolgendo anche la parte cervicale. Totò era un guerriero, ha lottato con tutte le sue forze per noi, voleva vivere per me e i nostri figli, ha confidato Barbara alle telecamere di storie italiane, aggiungendo che i figli, in particolare Mattia, le danno la forza di andare avanti. Mattia, commosso, ha descritto il padre come un esempio per tutti, papà lascia un vuoto immenso. Era una figura di riferimento per noi e per chi lo conosceva. La sua storia dimostra come una persona possa emergere dal nulla e diventare un simbolo, speriamo che il suo percorso rimanga un'ispirazione per tanti giovani. Nonostante fosse una persona riservata, Schillaci ha lasciato un ricordo indelebile, non solo per le sue imprese sportive, ma soprattutto per l'amore e la gentilezza che ha trasmesso a chi lo circondava.